Quasi 400 milioni di euro per 21 progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica che saranno finanziati grazie ai fondi del PNRR. Tra questi c'è la riorganizzazione del nodo ferroviario di Bari con interventi di ricucitura urbana tra il centro storico e tre quartieri Carrassi, San Pasquale e Madonnella che da solo vale 100 milioni di euro ed è inserito tra gli otto progetti pilota ad alto rendimento. La Puglia è la regione con il più alto numero di progetti approvati sul totale di 159 in tutta Italia, sempre a Bari sarà finanziato il progetto Made in San Pio, demolizione dei corpi di fabbrica destinati a commercio già abbandonati, riqualificazione energetica degli edifici e aumento degli alloggi sociali. Nell'area metropolitana tre progetti coinvolgono 39 comuni per il recupero di 53 immobili dismessi, orti urbani e giardini di quartiere per la ristrutturazione di un migliaio di alloggi popolari. Altri tre progetti ad Altamura prevedono la riqualificazione di piazze e di recupero di edifici storici da Dibiria Dab di formazione digitale, housing sociale, botteghe artigiane. Nella Batta ad Andria sarà realizzato un sistema edilizio a destinazione residenziale pubblico nell'area della nuova stazione ferroviaria. A Trani sarà recuperato l'ex macello comunale per realizzare alloggi e valorizzata la fascia costiera con un parco attrezzato. Nel Foggiano con il mosaico di San Severo sarà realizzato un percorso ciclopedonale green e un contenitore sociale. Nella periferia del capoluogo Dauno a Borgo Croci si procederà alla ristrutturazione completa degli immobili esistenti alla realizzazione di servizi di quartiere. Per Taranto il progetto Rinata Paolo VI consentirà il recupero di 96 alloggi e la riqualificazione degli spazi pubblici con orti urbani, sere e percorsi ciclopedonali. Riabitare la città vecchia si pone invece l'obiettivo di rivitalizzare una porzione del centro storico in gran parte disabitata recuperando i mobili degradati. A Brindisi lungo il seno di Levante del Porto sarà realizzato un polo universitario in tre manufatti in disuso. A Lecce infine saranno costruiti 60 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e un parco attrezzato sportivo.